La crescita della filiera agroalimentare a Bruzzese passa attraverso la qualità, l'innovazione ed il radicamento del territorio. Su questi temi si è discusso a Tollo dove si sono confrontati istituzioni e aziende. Noi dobbiamo migliorare la nostra qualità nell'offerta, non intesa come qualità del prodotto, ma soprattutto come organizzazione produttiva dell'offerta. Noi dobbiamo essere protagonisti sui mercati nazionali, ma soprattutto sui mercati internazionali. Lo possiamo fare costruendo la filiera sostenibile del settore vine. È stato fatto tanto in questi anni, dobbiamo migliorare ancora di più con gli strumenti e le risorse del piano di sviluppo rurale. Sicuramente daremo un impulso importante a questo settore. Un progetto pilota che è partito dopo che Cantina Tollo insieme all'altra cooperativa hanno dato vita alla Doc Tullum. Abbiamo bisogno non solo di fare degli ottimi prodotti con la Doc Tullum, ma dare un prestigio a questa Doc. Il prestigio a questa Doc si può dare prendendo in esame tutto il percorso della filiera, quindi dalla produzione in campagna alla vinificazione e alla comunicazione che deve essere arricchita di altri valori, non solo della qualità del vino.